Sapete, ultimamente mi è venuta una strana idea, ovvero avevo voglia di trash, ovvero volevo proprio guardarmi un film massacrato dalla critica, un film che venisse considerato tra i peggiori, così sono andato a cercare su internet, ma devo dire con mia grande sorpresa, tantissimi siti hanno messo in questa lista il film Shark Tale, e la mia reazione è stata un mix tra l'essere stupito, basito, sorpreso, perché io non mi aspettavo che Shark Tale fosse inserito nella lista dei peggiori film di animazioni sempre, e soprattutto non mi aspettavo che qualcuno invece lo definisse proprio il peggiore in assoluto. Allora cosa ho fatto, visto che vicino dove abito io c'è un negozio di DVD, sono andato là, ho visto la copia di Shark Tale e me lo sono comprato, l'ho guardato e adesso lo voglio recensire, dunque ecco a voi una recensione di Shark Tale, il film peggiore di sempre, almeno secondo alcuni. Shark Tale è un film del 2004 della DreamWorks, e giusto per dire due informazioni è uscito subito dopo Sherlock 2, sapete che film è Sherlock 2, e prima di Madagascar che sarebbe uscito invece nel 2005. Molti lo hanno criticato soprattutto per due motivi, uno è per aver insultato tra virgolette gli italo-americani per via dei stereotipi che hanno fatto all'interno di questo film, e l'altro motivo per cui lo hanno criticato è il fatto di essere stato accusato di essere una brutta copia di La ricerca di Nemo, e quindi di aver cavalcato tra virgolette l'onda di questo filone di film. È costato circa 75 milioni di dollari e ne ha guadagnati 374 e mezzo, quindi il guadagno c'è stato. La trama è presa poco questa, allora c'è un pesce, ovvero Oscar, che si trova al gradino più basso della scala sociale di una comunità di pesci, e a parte Angie, una pesciolina, non lo calcola nessuno. Oscar ci soffre un po' di questo, vorrebbe avere la sua occasione, vorrebbe essere considerato il più dagli altri. Da un certo punto, alla sua occasione, Frankie, uno squalo, muore per un incidente casuale, diciamo così. Però Oscar fa credere a tutti gli altri che sia stato lui a uccidere lo squalo, e perciò porta avanti per diverso tempo questa bugia, anche spaleggiato da Lenny, Lenny, scusatemi, che è praticamente il fratello di Frankie, ed è uno squalo tra virgolette buono, ovvero uno squalo vegetariano, che non vuole essere aggressivo come i suoi simili, ecco diciamo così. Succede che Oscar a questo punto viene finalmente considerato, viene considerato anzi, un divo, un piastro di questa società, e Lola, una pesciolina sexy, si innamora di lui. Tutto questo però, da una parte scatena le ire di Angie, che sa la verità, prova più volte a spronarlo, a dirlo anche agli altri, però lui vuole continuare a portare avanti questa bugia. Ma dall'altra parte, c'è Don Lino, che è il padre di Lenny e di Frankie, è praticamente il leader dei squali, che è capo di un'organizzazione quasi mafiosa, all'interno di questa comunità sottomarina, che giura vendetta contro Oscar. Allora, i protagonisti sono Oscar, che è il pesce che si vede al centro, che è il protagonista principale del film. Lui è uno sbruffone, scaltro, ma anche bugiardo, cioè si vanta di aver fatto questa grande impresa, quando in realtà non è vero. Poi lui, anche come ho già detto nella trama, si lascia anche da bindolare da Lola, senza essersi reso conto di essere in realtà innamorato di Angie. Poi, a proposito di Angie, e la vediamo a destra di Oscar, questa è una pesciolina molto leale e sincera, è un'amica di Oscar che l'ho sempre stato, cioè praticamente lei è proprio molto onesta e lei è tratta da Oscar, indipendentemente da quello che vuole far apparire. A un certo punto arriva addirittura ad essere gelosa di Oscar e più avanti proprio è lei l'unica, anzi la prima, che lo sprona ad essere sincero a quegli altri, di dire che lui in realtà non è quello che gli altri pensano. Lola, l'altra pesciolina, quella a sinistra di Oscar, è secondo me la versione pesciosa di Jessica Rabbit. Lei è vanitosa, permalosa, superficiale, snob. E le piace avere, come si dice, essere al centro dell'attenzione e quindi lei si fidanza con Oscar non tanto perché gli piace, ma semplicemente perché lui è la star del momento. In alto a destra invece c'è Lenny, che è uno squalo buono, vegetariano, che non vuole mangiare gli altri pesci. E in questo film è diciamo quasi come Comic Relief, è un personaggio che in molte occasioni fa ridere e devo dire che il doppiatore italiano, che dirò dopo, è stato davvero molto bravo a caratterizzare questo personaggio. Invece in alto a sinistra abbiamo Don Lino, che è il leader dei squali, nonché capo di un'organizzazione mafiosa sottomarina. Lui continua a, come si dice, a schernire, a mortificare Lenny perché vorrebbe che assomigliassi di più a suo fratello Frenky. Infatti Frenky è uno squalo molto aggressivo, non si fa problemi a mangiare gli altri squali, a mangiare gli altri pesci. Mentre Lenny è vegetariano, che non ha coraggio di dirlo. E per questo è molto timido e Don Lino, mostrando anche un grandissimo lato amorevole nei confronti dei figli, vorrebbe spornarlo e che facciano in modo che diventi come gli altri squali. Adesso, prima di passare a delle considerazioni mie, voglio aprire una parentesi, ovvero parlare delle polemiche che ci sono state durante questo film. Allora, la prima è che riguarda uno stereotipo offensivo nei confronti degli italo-americani. Allora, il film è chiaramente una parodia di Don Vito Corleone, ovvero del padrino. Io da italiano, personalmente, non mi sento offeso, ho accettato di buon grado questa rappresentazione perché dopo tutto l'abbiamo visto, cioè Don Lino sarebbe cattivo, però ha un grandissimo lato amorevole dentro di lui. Mentre l'altro squalo, ovvero Lenny, è praticamente un buono, cioè di fatto. Personalmente proprio non mi sento offeso, anzi ci ho riso sopra e perciò questa critica io personalmente non mi sento di condividerla. Passiamo invece adesso all'altra parte delle critiche, ovvero la più importante. Devo dire che anch'io inizialmente pensavo che questo film avesse preso spunto da Alla Ricerca di Nemo, però ci sono delle differenze. Innanzitutto, in Alla Ricerca di Nemo c'erano sì dei pesci che si erano organizzati più o meno come una società umana, però lì di fatto restavano in tutto e per tutto dei pesci. Qua invece questi pesci di Shark Tale sono praticamente degli umani con delle forno che si trovano dentro il corpo dei pesci, cioè si vestono, sono, come si dice, vanno al bar, vivono in delle vere e proprie case sottomarine e quindi già questa è un'enorme differenza. Poi un'altra cosa che c'è da dire è che ho capito soltanto crescendo, ovvero non è che un film in CGI come Shark Tale o anche come Alla Ricerca di Nemo lo si può fare nel giro di un anno. Se realmente Shark Tale avesse voluto copiare Alla Ricerca di Nemo non sarebbe uscito un anno dopo, ma sarebbe uscito parecchi anni dopo perché per fare, come si dice, per progettare un cartone animato a computer come proprio Shark Tale non ci vuole proprio un anno, anzi. Se realizzi un cartone animato in un anno in CGI ti esce una schifezza. Proprio una vera schifezza, magari con dei buchi di trama, con dei personaggi che non hanno il capo di coda. Invece il fatto che sia comunque uscita una buona storia, secondo me, è sintomo del fatto che sia Shark Tale che Alla Ricerca di Nemo sono stati praticamente concepiti quasi contemporaneamente, magari qualcuno qualche mese prima, qualcun altro qualche mese dopo, però più o meno nel stesso periodo. E come ha anche detto Jeffrey Katzenberg, probabilmente il fatto che siano usciti due film ambientati entrambi sott'acqua nel giro di due anni è stata semplicemente una coincidenza. Cioè non c'era nessuna intenzione a parte della DreamWorks di copiare la Pixar o della Pixar di copiare la DreamWorks. È proprio stata una coincidenza del tutto fortuita. E poi un'altra cosa che secondo me è anche la più importante. Abbiamo visto la trama di Shark Tale. Conosciamo la trama di Alla Ricerca di Nemo. Sono proprio due storie totalmente diverse. Alla ricerca di Nemo, anzi, è anche molto più maturo. Cioè ti fa riflettere. I personaggi sono caratterizzati molto bene perché hanno anche degli handicap che sono fallaci in tantissimi punti di vista. Come invece vediamo tutto in più dal punto di vista di un personaggio, Oscar, che pure lui non è che sia questo ostinco di santo. Però lui, a differenza di Nemo, è consapevole dei pericoli a cui sta andando incontro. Nonostante questo decide comunque di continuare a mentire. E poi basta proprio guardare i primi cinque minuti di Alla Ricerca di Nemo e i primi cinque minuti di Shark Tale per capire che sono proprio due storie totalmente diverse. E quindi, a mio modo di vedere, accusare Shark Tale di essere una brutta copia di Nemo è una cosa parecchio ingiusta. È un po' come dire che Le Cinque Leggende ha copiato Mammo ha perso l'aereo perché entrambe parlano del Natale. Sono film che magari hanno la stessa ambientazione trattano magari un argomento simile però virano proprio su strade totalmente diverse tra i loro. Quindi, su questo punto di vista Shark Tale secondo me non può assolutamente essere accusato di questo qua. Una cosa che io ho apprezzato perché adesso sono passato alle mie vere impressioni. Dicevo, una cosa che ho apprezzato tanto del film sono i temi che hanno trattato ovvero il fatto che bisogna essere sinceri che viene utilizzato tanto per Oscar o anche per il fatto sempre su Oscar che la fama non è tutto infatti quando Oscar diventa un VIP sente nella sua vita qualcosa che gli manca. Non riesce tanto bene a capire all'inizio però sente che nonostante sia effettivamente quello che voleva sempre essere non è contento gli manca ancora qualcosina. Poi anche si parla dell'amore vero per esempio quando Angie e Lola si contendono Oscar Angie vuole Oscar perché lo ama Lola invece soltanto perché è l'uomo del momento anzi il pesce del momento e dunque il tema dell'amore vero che tanto viene decantato in Frozen in realtà era già stato accennato in questo film. Poi anche sul personaggio di Lenny secondo me si tratta anche di un bel argomento ovvero bisogna essere accettati per ciò che si è lui a differenza degli altri squali è vegetariano lui da una parte ha paura di esporsi perché teme di non essere accettato dall'altra parte gli altri squali fanno un po' capire che se lui non diventa come loro loro non sono disposti ad accettarlo e secondo me questo qua è un bellissimo tema l'abbiamo visto anche in Luca questo tema qua nel recente Luca della Pixar soltanto che lì viene proprio sviluppato in maniera diversa nonostante questo il tema di base resta sempre quello e a mio modo di vedere è un bel tema questo qua mentre per quanto riguarda la comunità dei squali di tutti i pesci che viene mostrato in questo film mi ricordano un po' vagamente le comunità di Zootropolis dell'omonimo classico Disney o anche di un altro classico ovvero di Chicken Little soltanto che in Zootropolis c'era una città formata soltanto da mammiferi che però si comportavano in tutto e per tutto come esseri umani così come in Chicken Little la città era abitata più o meno da animali della fattoria però anche loro che si comportavano effettivamente come degli esseri umani qua è lo stesso siamo sott'acqua ci sono dei pesci ma si comportano tutti come gli esseri umani questo l'ho già detto prima però magari prima non si è capito è una cosa che io particolarmente ho apprezzato di questo film così come ho apprezzato tanto anche le battute di questo film perché questo film è comunque a differenza dei film della Pixar è un film rivolto di più ai bambini che agli adulti o agli adolescenti e le battute che hanno fatto tipo la coral cola oppure la loro moneta locale che sono le cuccozze quando l'ho sentito la prima volta mi proprio non mi sono saputo trattenere e ho riso davvero tanto 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 meno male che ero da solo a guardare questo film altrimenti gli altri mi avrebbero preso per un deficiente e adesso voglio dire una cosa che mi ha fatto piacere da una parte ma allo stesso tempo mi ha fatto storcere il naso ovvero il doppiaggio italiano allora come doppiaggio in sé per sé io l'ho trovato fantastico questo doppiaggio cioè proprio i doppiatori che sono intervenuti in questo film a mio modo di vedere hanno fatto un buon lavoro tuttavia non approvo il fatto di alcune persone che si hanno chiamato per doppiare a differenza della disney che inizialmente per un certo periodo di tempo ha provato a fare questa cosa qua poi l'hanno abbandonata per fortuna ma la dreambox per tanti film ha chiamato davvero tantissimi talent a dare la loro voce ai vari personaggi ma a differenza di disney che da soltanto uno o due battute a dreamworks invece in gran parte dei loro film usava i vip per dare la voce a personaggi praticamente protagonisti o personaggi principali ecco diciamo così allora oscar doppiato originariamente da will smith sappiamo che attore è will smith in italia è stato doppiato da fabio volo lenni doppiato da jack black che è in originale è stato doppiato da luca laurenti che ha doppiato anche steward little ha doppiato anche forky di toy story 4 mi pare anche un personaggio di la principessa eranocchia adesso non mi ricordo comunque ha fatto un lavoro straordinario luca laurenti proprio si è visto che si è calato tanto nella parte nel ruolo lola invece è stata doppiata originariamente da angelina gioli mentre in italiano da luisa corna ernie e bernie invece sono stati doppiati originalmente dal cantante siggy marley e dall'attore daug i daug in italia invece sono stati doppiati dal duo comico pali e dispali che sono angelo pisani e marco silvestri mentre katy kuric è stata doppiata originariamente da katy kurant e in italiano da christina parodi nonostante il doppiaggio in sé per sé non mi abbia dato fastidio mi dà fastidio il fatto che così tanti talent per doppiare così tanti personaggi anche importanti abbiano praticamente tolto il lavoro per un po' di anni almeno dalla sponda dreamworks hanno tolto il lavoro a tanti doppiatori magari anche emergenti che da tanto tempo aspettano la loro occasione aspettano un momento per mostrare a tutto il pubblico italiano la loro bravura nel doppiare dei personaggi ma per a dreamworks questo qua non potrà succedere o meglio succederà soltanto in alcuni casi perché loro per tanti anni hanno puntato tanto sui talent e questa è una cosa che non mi ha fatto tanto piacere sinceramente e un'ultima considerazione sulla grafica del cartone animato ecco sulla grafica invece devo dare una bocciatura perché non so se avete visto le immagini che ho mostrato durante questa recensione ma i pesci soprattutto Oscar hanno una fisionomia umana dare la fisionomia umana ai personaggi dei loro film è una caratteristica tipica della dreamworks soltanto che la loro fisionomia è estremamente umana e in alcuni personaggi come Lord Far come si chiamava il cattivo di Shrek o anche Fiona versione umana di Shrek funzionano alla grande cioè lì proprio è un valore aggiunto al film applicare però questa fisionomia che sono i personaggi di B-movie o anche a Shark Tale mi lascia particolarmente stranito cioè non riesco ad apprezzarlo questa cosa qua avrei gradito visto che il film è molto leggero molto sarcastico avrei gradito una fisionomia magari un po' più sopra le righe e non così seria perché è un po' cozza con come si chiama con l'area generale attorno al film e poi un'altra cosa che devo dire che alla ricerca di Nemo si capisce che siamo sott'acqua proprio le bolle sono state rese alla perfezione tutti anche i riflessi sottomarini sono straordinari invece qua in Shark Tale tutte queste cose qua mancano e sinceramente se proprio devo fare un paragone soltanto di grafica li stravince proprio la ricerca di Nemo ma sotto tutti i punti di vista proprio non esiste storia nessun paragone con Shark Tale In conclusione secondo me Shark Tale non è questa merda che tanti siti vogliono far passare ha avuto diciamo una sfortuna di essere uscito un anno dopo alla ricerca di Nemo e il paragone è stato inevitabile ammetto che anch'io lo ribadisco ancora una volta inizialmente ho pensato che Shark Tale volesse proprio cavalcare l'onda del successo della ricerca di Nemo che ha vinto l'Oscar ed è stato proprio un film con i controcazzi però diciamo a posteriori se lo si guarda singolarmente senza paragonarlo a dare la ricerca di Nemo è comunque un buon film proprio negli standard della Dreamworks i temi che tratta sono interessanti i personaggi anche la trama è coerente non ho visto nessun buco di sceneggiatura nessun errore evidente se non proprio qua cosina nella grafica e soltanto in Italia la scelta di alcuni doppiatori che mi ha lasciato stranito se io continuo ad apprezzare Luca Laurenti perché lui di fatto è come un doppiatore visto che ha doppiato tanti personaggi d'altra parte gli altri talent italiani mi lasciano ancora stranito non per non per la loro voce perché ammettiamo non sarà mai un problema il doppiaggio italiano di Shark Tale mai però avrei preferito magari più doppiatori professionisti ecco per il resto devo dire che molti invece non l'hanno pensato come me proprio hanno massacrato questo film sotto tantissimi punti di vista io qua cosina non lo posso capire ma la maggior parte così si potrebbe intuire no secondo me è un grande film un buon film non è sicuramente all'altezza di altri film come Shrek Shrek 2 o altri film della Dreamworld per esempio come 5 leggende o come Dragon Trainer però comunque è un buon film che si fa guardare dai secondo me i film brutti sono altri sia in casa di Dreamworks sia in generale per esempio qualche classico Disney secondo me non è neanche all'altezza di Shark Tale però vabbè questi sono un pari di miei personali ok dunque quello che devo dire ho detto scusatemi se mi sto impappinando ma siamo in inverno il riscaldamento oggi non ha funzionato e se ogni tanto mi blocco perché sento un po' freddo ecco diciamo così comunque ok ci teniamo da tanto fare questa recensione e io vi do l'appuntamento a un prossimo video ora guardo e ringrazio anche i due gatti che si sono iscritti da poco tempo grazie a tutti quanti anche se siete proprio in tre in tutto ma grazie lo stesso a tutti quanti au revoir